E' martedì, ci troviamo della vittoria di via nazionale, allenamento degli allievi da questo lato, gli allievi di mister Gabriele di Felice, ecco abbiamo Guido, Karan, Teddy, Lontino, Pitbull, Ameo, Antonio, abbiamo Francesco Cocco in versione calciatore, Bartolino, Alessio, Michele, Nicola, Renzetto, ecco abbiamo pure, ecco Lele e Michel. Abbiamo Renzetto, abbiamo pure Karan, Bartolino, Nicola, e abbiamo pure Maggio e Lele, abbiamo un nuovo portiere, Domenico, poi all'incrocio di Valle e Matteo. Abbiamo Guido che apre le danze, abbiamo Karan, abbiamo Pitbull, Pitbull, ecco Pitbull, tutto pure. La vede qua? Chi è fatto? Vede qua tutti? Tutti, tutti, guardate. La fuga è poi sotto. da quest'altro lato ci sono i giovanissimi di mister giovanni grazie